Noi siamo Međugorje Italia Radio TV, un emittente comunitaria libera. La nostra attività non prevede il ricorso alla pubblicità commerciale. Per questo viviamo grazie all'aiuto della Providenza Associazione Međugorje Italia TV, APS. Puoi sostenerci anche tu con una donazione libera al numero IBAN IT 14 T07 60 11 17 0000 10 60 38 23 95. Međugorje Italia Radio TV, sede e produzione a Međugorje.